allora proviamo a usare l'account di prova su un account nuovo quindi proviamo a registrarci in una forma che non ho ancora usato ad esempio qua entro con un account totalmente nuovo e questo account nuovo vedete che mi chiede se voglio entrare e io voglio entrare come teacher perché voglio usarlo al massimo come teacher facciamo teacher, mi chiede se sono almeno 18enne dico di sì, mi chiede di vedere tutte le condizioni gli dico di sì, agree a questo punto se voglio diciamo di non mandarci email lui mi manda un email di conferma e per attivare l'account nuovo noi andiamo a cliccare su quella mail ok ho cliccato il link sulla mail e quindi è stato confermato l'indirizzo faccio continue a questo punto quando entro sicuramente non ho registrato quindi lui mi propone questa cosa che io non accetto e a questo punto vedete che ho tutte le opzioni diciamo della versione free quindi per vedere che sono nella free basta vedere che qui non c'è scritto free e quindi se io faccio costpaces qui vedete che c'è crop pro create folder e a questo punto faccio che fare l'upgrade to pro allora quando faccio l'upgrade to pro vedete che c'è un activate trial l'activate trial mi chiede un trial code gli scrivo costproventing che era quel trial code che abbiamo visto prima facciamo activate trial a questo punto dice che c'è 100 posti disponibili che scadranno tutto a dicembre fine gennaio 13 gennaio 2003 23 e quindi facciamo close e a questo punto vedete che in teoria quindi probabilmente devo fare un log out e poi fargli di nuovo la registrazione e a questo punto dovrei essere effettivamente vedete dice 1 su 100 quindi dovrei poter fare tranquillamente le classi quindi posso fare le classi posso fare close space vedete che mi fa fare anche le cose che prima non potevo fare create folder e in particolare se vado in un ambiente quando vado sulla library vedete che mi da tutto libero quindi sono tutte le versioni quindi nel special particolare a parte questa no anche queste sono disponibili quindi ho tutto il necessario che mi fa fare anche le cose che ci sono